Fai, destra 2, molto stretta, in sinistra 2, apre Destra 5, apri, e 40, destra 4, in sinistra 4, freno a mano, 40, e tornante sinistra Destra 6, apri, sinistra 4, tornante destra, 40, e tornante sinistra 40, tornante destra, apri, e sinistra 5 60, sinistra 3, in tornante destra Sinistra 4, 40, tornante sinistra, e tornante destra, barriera all'interno, poi sinistra 5 40, destra 3, 40, sinistra 4, muro all'esterno, e destra 3, taglia 60, sinistra 3, non tagliare, marcapiede Destra 5, in sinistra 4, stringe 40, sinistra 4, poi tornante destra, dopo i diffici Apri, e 40 Destra 4, in sinistra 5, poi destra 4, in sinistra 4, e destra 4 Sinistra 3, apri 100, destra 2, sotto il ponte, muro all'esterno Sinistra 4, in destra 3, e sinistra 4, lunga 40, tornante sinistra, 40, poi tornante destra, freno a mano 40, poi destra 3, chiude 60, barriera all'interno, poi sinistra 3, lunga, apri 40, sinistra 5, e 100, in destra 6, molto lunga 40, tornante sinistra, 40, sinistra 6, muro all'interno, poi tornante destra, freno a mano 100, apri Destra 3, molto stretta, barriera all'esterno Destra 5, in sinistra 6 40, poi destra 5 Destra 3, poi sinistra 3 Tornante sinistra, barriera all'esterno, e destra 3 Sinistra 3, poi tornante destra 40, destra 5, apri Sinistra 5 Destra 3, e sinistra 4 Traguardo Destra 5, in sinistra 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 5, in Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.